Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, riaccoci qui. Anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio. Nei giorni scorsi abbiamo finito di parlare di aste, ormai credo che la maggior parte di voi l'abbia fatta o comunque se la deve ancora fare a tutto il materiale necessario per essere preparati al meglio. Oggi iniziamo a parlare un po' di asta di riparazione e poi ovviamente anche di scambi. Oggi vi andrò a dare alcuni consigli che potrebbero esservi utili appunto per le aste di riparazione che so che molti di voi faranno durante questa pausa delle nazionali. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis. Gratis come registrarsi su Starks. Trovate il link qui sotto in descrizione. Starks è la prima piattaforma in Italia dove abbiamo la possibilità di acquistare i token direttamente dei giocatori. Ci sono già tanti nomi importanti su Starks. Scamacca, Fratesi, Strefezza, Immobile, Bove, Carnesecchi, Mancini e tanti altri. E tanti altri nei prossimi giorni stanno per arrivare. Quindi mi raccomando ricordatevi che la registrazione è gratuita e a fronte del primo deposito di almeno 20 euro riceverete 15 euro in omaggio. Vi aspettiamo a settembre. Partirà anche il gioco. Ma torniamo a noi e parliamo quindi di asta di riparazione. Il primo consiglio che mi sento di darvi che forse tra tutti è il più banale ma è anche uno dei più importanti è quello di sfruttare al massimo il regolamento che avete nella vostra lega. Questo ovviamente l'avreste dovuto fare già nel momento dell'asta ma anche adesso a seconda del tipo di regolamento può ovviamente variare la vostra strategia. È ovvio che in una lega dove si svincolano tutti i giocatori rimasti a un credito e si ottengono solamente i crediti dei giocatori andati all'estero c'è poco da fare. Lì più o meno la situazione a livello di budget relativo sarà più o meno la stessa di quella di fine asta. Ma in tutte quelle leghe dove avete la possibilità di svincolare o al prezzo d'acquisto o al più basso tra acquisto e lista o alla metà di uno dei due prezzi. Insomma dove avete la possibilità di ottenere crediti dagli svincoli beh allora qui si aprono diversi scenari a livello strategico e qui iniziano ad arrivare gli altri consigli. Perché il secondo consiglio è quello proprio di studiare non solo la vostra rosa ma soprattutto le rose dei vostri avversari. Perché se riuscite a capire a prevedere ad anticipare le mosse di svincolo che potrebbero fare i vostri avversari beh tutto sommato riuscirete anche ad avere un quadro generale della situazione ai crediti all'asta di riparazione e anche in virtù di quelle mosse potete poi decidere le vostre. Ad esempio se vedete che c'è un fantallenatore che magari ha perso beto in attacco e che ha la possibilità di svincolare alcuni giocatori a un prezzo molto elevato per vari motivi o perché stanno floppando o perché sapete che lui non è più convinto di questi nomi beh è ovvio che non ha tanto senso andare a fare troppi svincoli per cercare di essere chip leader. Voi sapete che comunque quel fantallenatore avrà più crediti di voi. Se invece notate che bene o male tutte le altre rose sono abbastanza bloccate allora in quel caso potrebbe valere la pena magari osare un po' di più per cercare di arrivare a essere chip leader all'asta di riparazione. E qui ovviamente c'è il terzo consiglio perché l'asta di riparazione è sì importante per migliorare ma soprattutto la nostra priorità è quella di non indebolire la nostra squadra. Tanti di voi nelle scorse settimane negli ultimi giorni soprattutto mi stanno scrivendo in privato a livello di telegram parlo ovviamente degli abbonati cigno nero e underdog delle proposte di svincolo che definisco molto molto rischiose. Ad esempio alcuni di voi volevano svincolare 7-8 nomi di cui almeno la metà non dico top ma comunque dei semi top molto alti. Perché? Perché volevano prendere magari il Lukaku della situazione. Ora qui come dico sempre anche in live una cosa è svincolo X per provare a prendere Lukaku. Una cosa è svincolo X per avere la garanzia, la certezza matematica al 100% di prendere Lukaku. Ecco in quel caso lì allora benvengano anche degli svincoli un po' più diciamo interessanti. Se qualcuno vuole svincolare giocatori come Sanabria o magari Pasalic e magari anche un difensore medio buono, un dodotto per arrivare con la certezza matematica a prendere Lukaku. In quel caso io approvo quest'operazione. Ma uno che magari vuole svincolare Lukman che fino a qualche giorno fa voleva addirittura svincolare Scamacca o che si appresta a svincolare attaccanti comunque tipo di A solo per provare a prendere Lukaku beh in quel caso ovviamente la mia risposta è no. Ed è no anche per tutti quelli che hanno intenzione di svincolare Dybala per prendere Lukaku. Ora anche se ipotizzate e questo ci può stare che Lukaku a fine anno potrebbe avere una fantamedia superiore a Dybala. Ricordatevi sempre che una cosa è lo svincolo un'altra è lo scambio. Nel momento in cui voi svincolate un giocatore e ovviamente se avete fatto un regolamento fatto bene non potete riacquistarlo all'asta di riparazione vuol dire che state mettendo quel giocatore sul mercato con il grosso rischio che quel nome possa essere fortemente svalutato o essere preso in affare in saldo da uno dei vostri avversari. Perché? Perché se voi fate un'operazione di quel tipo dove svincolando Dybala siete chip leader all'asta di riparazione ovviamente voi andrete a spendere i vostri soldi su Lukaku e su altri nomi che sono libri nella lista. Ipotizziamo che il secondo nella vostra lega abbia semplicemente una ventina di crediti e sia comunque il più ricco a livello di budget relativo rispetto ai vostri avversari ecco quel fantallenatore lì con 15-16 crediti si andrà a prendere Dybala. Mentre voi sì avrete magari preso Lukaku a 21 o 22 crediti più altri giocatori però avete fatto un grosso regalo a quel fantallenatore. Quindi ricordatevi sempre che una cosa è lo scambio e una cosa è lo svincolo. Se devo leggermente migliorare poi è tutto da vedere che Lukaku sarà meglio di Dybala. Se devo leggermente migliorare la mia rosa ma allo stesso tempo faccio un regalo enorme a un mio avversario beh io in quel caso lì non vado a fare un'operazione di questo tipo e piuttosto lascerò prendere Lukaku al mio avversario però non vado a fare una cosa del genere. Un'altra cosa importante anche qui sempre che ovviamente riguarda gli svincoli è il discorso del rischio. Perché? Perché una cosa è andare a svincolare dei top andandoli a mettere sul mercato e andandoli a mettere alla merce ovviamente dei vostri avversari. Un altro discorso è andare a svincolare anche 8, 9, 10 giocatori che nella vostra rosa però non sono titolari sono magari o delle coperture o sono quegli slot che avete preso più per un momento favorevole dell'asta ma su cui non credevate troppo o che non avete comunque intenzione di schierare. Ecco in questo caso qua invece io allora approvo le strategie un po' più rischiose perché vi faccio un esempio se svincolando un giocatore come zambo anghissa ottenete tanti crediti importanti per fare altre tipologie di acquisto ci sta. Al massimo poi all'asta di riparazione andrete a prendervi non so un guendosi in una rosa del fantacalcio che sia 8 a 10 o a 12 tra avere un zambo anghissa o avere un guendosi non cambia tantissimo non sarà quella mossa a farvi vincere o perdere il fantacalcio quindi se da degli svincoli di giocatori di fascia media ottengo molti crediti e questi giocatori li posso rimpiazzare con giocatori simili a pochi crediti all'asta di riparazione perché ho una posizione di netto vantaggio rispetto ai miei avversari lo faccio. Facciamo un altro esempio svincolando uno come martin uno come dodò uno come spinazzola ottengo 20 crediti e facendo i miei calcoli vedo che ho la possibilità di prendere a 3 4 3 3 4 crediti un giocatore come non so christiansen del bologna o bastoni dell'empoli è un'operazione che faccio sempre ok la faccio sempre la faccio tutta la vita vado a svincolare qualche slot dietro che non mi fa la differenza e li vado a sostituire con giocatori più o meno simili quindi mentre bisogna fare molta attenzione e nel 99 per cento dei casi io vi sconsiglio di andare a svincolare dei top che potrebbero favorire i vostri avversari su quella fascia di mezzo di giocatori dove più o meno uno slot un nome vale altro allora effettivamente si può essere un po più coraggiosi. Un altro consiglio a mio parere fondamentale se è così anche nelle vostre leghe è che solitamente io organizzo la sessione di scambi post asta di riparazione quindi ipotizziamo che stasera abbiate un'asta di riparazione e poi da domani verrà aperto il mercato degli scambi fino alla ripresa del campionato ecco se siete in una posizione di vantaggio è giusto dare priorità all'asta di riparazione alle esigenze della vostra rosa magari siete completi in attacco siete completi a centro campo vi serve solamente un difensore forte è giusto che andiate a puntare ad esempio un povard se però siete in una posizione di vantaggio che vi permette di acquistare sia povard sia altri nomi beh allora anche se ad esempio non vi serve un giocatore a centro campo come malinoschi potete comunque prenderlo e poi usarlo come piedina di scambio quindi non non fatevi così sfilare davanti delle occasioni solo perché sono giocatori che non vi servono nella vostra rosa perché state pur tranquilli pur sicuri che se prendete dei giocatori validi che qualcun altro voleva poi avete 7 10 giorni per poterli andare a proporre in sede di scambio magari addirittura potreste anche prima dell'asta di riparazione fare degli accordi verbali con altri fantallenatori dove gli andate a dire guarda io all'asta di riparazione prendo il giocatore x e poi me lo te lo scambio per quel giocatore lì nulla di vietato nulla di sbagliato volendo si può anche fare così e infine l'ultimo consiglio che forse uno dei più importanti per quanto riguarda l'asta di riparazione di quest'anno è che ricordatevi che in tante leghe la lista degli svincolati che state vedendo è solamente una parte degli svincolati che effettivamente ci saranno all'asta perché come vi ho detto l'anno scorso e l'anno scorso tanti di voi hanno vinto il fantacalcio grazie a questa mossa e come vi ho detto anche poco fa in quelle leghe dove magari avete fatto l'asta a inizio agosto e quindi avete una lista di svincolati enorme e soprattutto in quelle leghe dove effettivamente si può avere la possibilità di ottenere crediti anche pesanti dagli svincoli di giocatori rimasti in a beh è abbastanza normale aspettarsi che a quella lista di svincolati che stiamo vedendo in questo momento manca almeno un 20 30 per cento di altri nomi importanti e questi nomi importanti chi sono sono semplicemente gli svincoli delle altre squadre perché così come voi state valutando se svincolare qualche pezzo importante per arrivare a certi nomi se è un fantacalcio a 10 è probabile che su altre nove squadre almeno due tre o quattro stiano pensando e magari probabilmente faranno la stessa cosa quindi se da un lato questo è un male perché sicuramente avrete più concorrenza all'asta di riparazione allo stesso tempo è anche un bene perché magari se c'è un avversario che non so sta per svincolare un giocatore come kamada perché vuole andare a prendere l'instrom magari lui prenderà l'instrom ma voi avrete la possibilità di prendere kamada a pochi crediti è un po il discorso inverso di quanto vi ho detto poco fa ecco questa è una cosa fondamentale che se da un lato ovviamente rende l'asta di riparazione più bella ma allo stesso tempo anche più imprevedibile perché non vi permette di avere la possibilità di conoscere gli svincoli degli altri allo stesso tempo però una volta che poi svincolano certi nomi avete ovviamente la possibilità di andare a fare ottimi affari e chiudo dicendovi che a per garantire un'asta di riparazione trasparente allo stesso tempo anche competitiva e giusta e uguale per tutti il mio grosso consiglio è quello di fare gli svincoli o al buio facendoli in busta chiusa oppure stabilite un orario x del giorno x e a quell'orario tutti devono mandare la lista degli svincoli in una chat telegram piuttosto che in una chat whatsapp magari io quello che faccio con gli abbonati cos'è tutti li mandano a me e io nello stesso preciso istante li mando a un altro fantallenatore in questo modo nessuno né l'admin né nessun altro al vantaggio di conoscere prima gli svincoli so che alcuni di voi invece fanno gli svincoli in ordine di classifica io non sono d'accordo perché dopo tre giornate fare gli svincoli in ordine di classifica non ha alcun senso qual è il grosso svantaggio di avere tre punti meno in classifica ma avere poi la possibilità di conoscere gli svincoli degli altri è troppo vantaggioso allora firmerai per essere magari a tre punti dopo due giornate e poter conoscere gli svincoli degli altri il discorso invece cambia a febbraio a febbraio secondo me è giusto far partire magari gli svincolati dal primo in classifica e poi ascendere per dare un vantaggio agli ultimi in classifica ma a febbraio si è già fatto più o meno il 50 per cento del fantacalcio se non di più dopo due giornate andare in ordine di classifica non ha davvero alcun senso ragazzi questi erano i miei consigli per quanto riguarda l'asta di riparazione gli svincoli e tutto il resto fatemi sapere voi che cosa ne pensate scrivetemelo come sempre qui sotto nei commenti io vi saluto vi ringrazio vi ricordo che oggi dalle ore 15 alle ore 16 sarò ospite di fantacalcio.it in live sulla piattaforma viola sul loro canale e a seguire intorno alle ore 16 30 sarò qui con voi in live per un'altra live di valutazione rose io vi saluto vi ringrazio e vi ricordo che poi nelle prossime serate torneranno anche delle live di analisi aste e nello specifico vi porterò un paio di aste che ho fatto io e anche un'asta molto particolare questo accadrà la settimana prossima credo una asta a 14 squadre davvero molto molto affascinante io vi saluto vi ringrazio mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi qui sotto che è sempre gratis noi ci vediamo come sempre al prossimo video o alla prossima live ciao iscriviti al canale